Pallavolo maschile, Civitanova in gara 3, batte Monza, riapre la serie dei quarti di finale di Superlega il cubano Jant, grande protagonista, Maurizio Colantoni lo ha intervistato per noi Tira forte ed ha, assieme alla sua Civitanova, riaperto la serie dei quarti contro Monza Marlo Jant, il trascinatore, 24 anni, un MVP speciale perché davanti allo sguardo di sua mamma è stato il migliore in campo è stato bellissimo, tra un pubblico che non ha molato mai, frente a mia mamma che per la prima volta mi vede giocare qua a Civitanova sono molto contento, anche i ragazzi che non hanno molato e hanno lottato fino alla fine Monza gioca bene, una grande palla a volo, Jant però rimane positivo sul futuro Monza sta giocando molto bene, hanno un alto livello, io penso che se la possiamo fare come abbiamo giocato oggi abbiamo dimostrato che sì possiamo e secondo me se la facciamo l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, venendo due selo sotto, poi l'abbiamo fatto e siamo arrivati fino allo scudetto Dal 2020 è nelle Marche, la prossima stagione andrà via, ma rimane il suo grande amore per Civitanova Civitanova per me è casa, io direi che il futuro si vedrà, però mi piace tanto giocare qua